La mia scienza si riconferme la primogenita, apre la prima manifestazione teoristica dopo il Covid in Emilia Romagna. Sono fiero della mia terra, sono emozionato di essere qui a vedere queste compasse in abiti medievali. Io sono nato a Rivata, un bellissimo borgo dove c'è un castello dell'anno mille pieno di armi. Queste cose mi fanno rivivere la mia infanzia. Sono veramente emozionato di essere qui in mezzo a voi. Vi ringrazio tutti e ringrazio in special modo il Presidente Cavalli che ha rilanciato questa chiera che era quasi in agonia. Ha rilanciato l'ente chiera di piacenza e avrà molta strada davanti. Grazie a tutti. Grazie.